Rieccoci, un caro saluto a tutti amici del canale YouTube, come sempre invito ad iscrivervi se vi va, iscrivetevi al canale, è molto importante, stiamo crescendo insieme ma serve sempre il vostro aiuto, il vostro contributo per crescere sempre di più, siamo veramente vicino alla soglia dei 35.000 iscritti. Detto questo ragazzi oggi si gioca, seconda giornata di campionato, il Mian la prima l'ha vinta 2-0 ma stasera sarà la prima in casa, la prima a San Siro e c'è sempre una certa curiosità, una certa emozione vedere la squadra rossonera giocare a San Siro nel nuovo anno e per questo saranno presenti oltre 72.000 spettatori nonostante siamo ancora a fine agosto, oggi 26 di agosto, in serata porta anche pioggia quindi vedremo, vedremo che partita sarà, il Milan ovviamente deve conquistare più punti possibili perché non ha un calendario semplice, ha vinto contro il Bologna, stasera c'è il Torino, poi l'ultima prima della sosta c'è la Roma e dopo la sosta il derby contro l'Inter, quindi calendario tutt'altro che semplice, bisogna mettere fieno in cascina, bisogna portare quanti più punti possibili. Parleremo della probabile formazione in questo video anche se si va verso la conferma in blocco dell'undici che ha giocato e ha vinto contro il Bologna, ovviamente siamo negli ultimi giorni di calciomercato quindi è anche giusto fare un attimo il punto sulle trattative di mercato come facciamo quotidianamente. Innanzitutto diciamo che il Milan ha preso un giovane danese, giovane che si dice molto interessante, fisicato, 1,90 m, giovane danese classe 2005 che andrà però a giocare con la primavera di Ignazio Abate, almeno inizialmente, poi si vedrà. Si tratta di Alexander Simmelak. Simmelak è un ragazzo nato appunto in Danimarca proveniente dal Copenhagen, dall'FC Copenhagen. E questo giovane ieri sera è sbarcato a Milano, stamattina ha svolto le visite mediche e poi successivamente si aggregherà alla formazione primavera di Ignazio Abate. Milano è quindi che lavora anche sui giovani, anche se poi il ruolo di attaccante, perché lui è una punta centrale, deve anche ricoprirla in prima squadra, non solo in primavera. Sapete che il Milan va a caccia di un giocatore che possa alternarsi a Olivier Giroud e ci sta provando. Ma faremo il punto sull'attaccante in questo video. Prima però un'altra puntata di quella che è la storia a Lukaku, ve la possiamo raccontare, perché Lukaku è a un passo veramente molto vicino al passaggio alla Roma. In molti tifosi del Milan si lamentano in questo momento, dicono ma perché non ci ha provato il Milan in prestito? Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, sarebbe stata l'occasione di creare anche un vantaggio sulle altre squadre concorrenti per il titolo e togliere un giocatore, per esempio alla Roma, che ora potrebbe con Lukaku e Dybala farsi sotto per gareggiare per il titolo, per lo scudetto. Quindi rientrare anche la Roma potrebbe rientrare in questa lotta per il titolo. Allora, innanzitutto bisogna dire che il motivo principale è economico, perché Lukaku guadagnerà una decina di milioni di euro alla Roma, 10 milioni di euro netti vuol dire che all'ordo sono 20, la Roma comunque dovrà pagare qualcosa per il prestito al Chelsea, dovrebbe essere un prestito oneroso, poi le trattative si stanno definendo in queste ore, stamattina addirittura è previsto un altro incontro tra Chelsea e Roma a Londra, la scuola romana con il presidente e il DS sono sbarcati a Londra ieri sera per provare a chiudere la trattativa, quindi comunque un'operazione di oltre 20 milioni di euro. Il Milan che ha già speso 120-130 milioni sul mercato non se la sente in questo momento di fare come club, come società un investimento così importante, anche perché questo prestito da circa 20 milioni di euro lordi, 10 netti sostanzialmente per l'ingaggio, è un'operazione in prestito, quindi l'anno prossimo la Roma si ritroverà con la possibilità di dover ridiscutere l'acquisizione di Lukaku, se la stagione di Lukaku sarà positiva, altrimenti perderà 10 milioni e Lukaku tornerà al Chelsea, cioè non è un'operazione a titolo definitivo, è un'operazione in cui la Roma investe tanto nel prestito del giocatore, e da quello che abbiamo capito questo tipo di operazione non piace molto alla dirigenza rossonera, che ha un'altra filosofia, soprattutto negli ingaggi, sapete che il giocatore più importante e l'ingaggio più importante che c'è al Milan è quello di Rafa Leao, che guadagna 5 milioni di euro, quindi Lukaku arriverebbe al Milan con il doppio dell'ingaggio del miglior giocatore rossonero, di Leao, e questo di sicuro non è proprio il massimo per gestire uno spogliatoio. E poi c'è anche una parte caratteriale, perché comunque Lukaku ha dimostrato in questi mesi di essere un giocatore molto volubile nelle scelte, prima ha voluto lasciare l'Inter per andare al Chelsea, poi ha rotto col Chelsea per tornare all'Inter, poi invece di confermarsi all'Inter si mette a dialogare, a trattare di nascosto con la Juve, poi non va alla Juve e va alla Roma che non gioca neanche alla Champions, insomma comportamenti non proprio esemplari quelli di Lukaku. La cosa che possiamo dire è che nelle scorse ore c'è stata anche una telefonata da parte dell'entourage di Lukaku al Milan per appunto proporre il giocatore, perché arrivati a dieci giorni dalla fine del mercato, ora ne mancano sei, ma qualche giorno fa arrivato a dieci giorni dalla fine del mercato, Lukaku non aveva ancora squadra e quindi il suo procuratore, il suo entourage, si è messo a telefonare un po' tutti i club, compreso il Milan, ha ripreso a dialogare anche con la Juve, alla fine tra Juve e Milan ha visto che non c'era possibilità, non c'era terreno fertile e il Milan non ha aperto al prestito, perché naturalmente quelle cifre sono troppo alte, soprattutto dopo aver investito 120-130 milioni. Probabilmente l'operazione Lukaku andava fatta a inizio mercato, dopo la cessione di Tonali, quando il Milan aveva ancora tutto il budget e quando il Milan doveva ancora stabilire la strategia di rinforzo della Rosa, magari si poteva prendere Lukaku e attorno a lui costruire la squadra, ma non è un'operazione per il Milan da fare negli ultimi giorni di mercato dopo aver già completato la Rosa e preso tutti gli altri giocatori. E questa è un po' la filosofia del Milan, la spiegazione del Milan sul perché non è stato preso Lukaku. Quindi il giocatore è proposto, il Milan non ha aperto, stessa cosa la Juve, stessa cosa altre squadre, alla fine c'è stata l'occasione Roma e Lukaku sta per andare alla Roma. Aspettiamoci però la classica moncadata per quanto riguarda l'attacco del Milan. Vi dico già che anche ieri sera, facendo ulteriori verifiche con la società rossonera, la risposta è sempre la stessa. Se c'è un'occasione clamorosa, se c'è un'occasione di mercato importante, il Milan rinforzerà la Rosa prendendo un altro attaccante, un'altra punta. Altrimenti resterà Lorenzo Colombo, che comunque è un giocatore valido, deve ancora crescere, è vero, però ha già due anni di esperienza in Serie A e potrebbe essere il terzo anno questo in Serie A per Colombo. Se il Mian invece coglierà l'opportunità di un altro attaccante, Colombo rinnoverà il contratto e andrà in prestito al Monza. Le cose stanno così. In altri ruoli non mi sembra che il Mian voglia rinforzarsi. Ieri Stefano Pioli, in conferenza stampa a Milanello, ha confermato la versione che abbiamo dato nei giorni scorsi, ovvero che il Mian non prenderà un altro terzino. Adotterà soluzioni interne, quindi Florenzi, Calabria, Bartesaghi. Sono questi i giocatori che potrebbero alternarsi a Teo Hernandez sulla fascia sinistra. Quindi non resta che attendere una possibile occasione in attacco per il Milan, la classica moncadata, qualche giovane magari interessante, qualche ragazzo di qualche campionato non proprio di prima fascia e il Milan potrebbe coglierla. Altrimenti si resta così. Questo è un po' il messaggio, la filosofia che arriva da casa Milan per quanto riguarda il mercato in questi ultimi giorni. Ma non ci dimentichiamo che stasera si gioca. Quindi è probabile formazione formata da Mian, Calabria, Malik Chao, Tomori e Teo Hernandez in difesa. Centrocampo con Loftucic, Krunic e Reinders. L'attacco sarà invece formato da Pulisic, Giroud e Rafa Leao. In panchina ci sarà per la prima volta Pellegrino, la sua prima convocazione. C'è anche Musa per la prima volta che è invece squalificato contro il Bologna e naturalmente Ciucuese e tutti gli altri rinforzi del mercato estivo rossonero. Noi ci vediamo più tardi. Un abbraccio. A presto. Ciao.